Riparte Emanuele Giammusso la stagione teatrale 2015-2016 che porterà in scena la compagnia Antidoto. Si parte con una 3, 4, 5 giorni di spettacoli con il primo appuntamento il 18 a Briscola 2x2. 2x2 la Briscola invece di giocare a poker noi giochiamo a Briscola. 2x2 e 4 no? Sì, sì, 2x2 e 4 è perché si inizia a Briscola in ginga e poi si finisce a Munaghetto. Come si suol dire? Comunque è questa la commedia, il divertimento di questa commedia è questo. Si ringrazia Tiziana Guerneri perché è stata lei a riscrivere questo copione bellissimo e Giancarlo Bella la regia. Ed è un appuntamento da non perdere perché è chiaro che bisogna andare a teatro. Bisogna andare a teatro, il teatro è sempre il teatro, la comodità, lo stare con noi, noi stare con il pubblico. 18, 19, 20 e 21, lo ripeteremo sempre. Poi c'è stato fatto la coppia. Dice, la coppia sì, sai che c'è stata un'idea geniale? Perché le mogli si sono portate i mariti. Dice, perché c'è stata coppia se non ci fanno trasto? E perciò c'è stata geniale anche l'idea della coppia. Ma non soltanto il primo appuntamento perché voi avete stilato un vero e proprio calendario che sicuramente attirerà l'attenzione. Sì, 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 c'è un calendario, c'è una stagione teatrale di altissimo livello. Si dice amatoriale ma tu lo sai, gli amatori lavorano come dei professionisti. Noi ieri sera fino a mezzanotte eravamo lì perché ci stiamo impegnando tantissimo, perché dobbiamo andare al pubblico. Il pubblico di Gela dell'India l'antemerita, l'antidoto, e noi meritiamo l'ora. Perché bisogna andare al teatro? Perché il teatro, ma sai tutti dicono, sì, il teatro è cultura e poi per i periodi che ci sono stare bene insieme è una cosa importante. Alla gente io faccio dimenticare le bollette della luce, do gas, cioè quando si dimenticano per due ore questo già gli ho dato qualcosa. Però poi bisogna pagare ugualmente. Sì, 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 con la tassa.